Rita dalla Chiesa, ospite di Amici di Maria De Filippi, dà qualche consiglio ai ragazzi e come spunto prende proprio l'esempio di Fabrizio Frizzi e dice io lo conosco da 35 anni e posso soltanto dirvi che voi siete giovani e avete tanti sogni e bisogno di affermarvi. Fabrizio ha cominciato a 17 anni in una radio privata, stava lì la notte ad ascoltare la musica insieme ai DJ e la mattina andava a studiare. Aveva questo sogno ed è sempre stato una mosca bianca nel nostro mondo. Io lo chiamavo ufficiale gentiluomo per la correttezza ed il rispetto che aveva nel rapportarsi con gli altri. Ha avuto una vita bellissima dal punto di vista professionale con qualche momento di caduta ma non l'ho mai sentito parlare male di qualcuno. Si rivolge quindi ai ragazzi e dice loro non abbiate mai paura di essere buoni, non dovete sgomitare, dovete cercare di aiutarvi perché questo è il segreto reale per avere successo nella vita. Qualcuno di voi riuscirà, qualcun altro troverà la propria strada altrove. Riprovateci e prima o poi con la correttezza si sfonda.